Sassari, in campo la giunta di Magia, ce ne parla Emanuele Floris. Annunciata questa mattina la giunta che affiancherà il sindaco Giuseppe Mascia. La nostra è una giunta politica, ricca di competenze, con quattro donne e cinque uomini, persone che arrivano da esperienze diverse, persone che hanno già lavorato dentro l'amministrazione comunale, con precisi incarichi, persone che lavorano nelle istituzioni. Novi gli assessori da Giuseppe Masa, la bilancio e i tributi a Patrizia Mercuri, valorizzazione del patrimonio e politiche della casa, Laura Careddo, titolare dell'assessorato delle politiche dei servizi di coesione sociale, Massimo Rizzo sarà invece l'assessore della pianificazione infrastrutture della mobilità e traffico, Salvatore Sanna e lavori pubblici, Salvatore Dao, l'assessore della transizione ecologica, salvaguardia del territorio e decoro urbano, oltre che vice sindaco Antonio Pano, attività produttive ed edilizia privata, Maria Francesca Fantato, l'assessore alla pianificazione territoriale, Nicoletta Pugioni, infine l'assessore alla cultura. Chiaro il programma nei primi cento giorni che affronterà temi come il fosso della noce. Abbiamo nel corpo dell'amministrazione, ne daremo già notizie nei prossimi giorni, alcune scelte importanti sulle politiche della casa. Nei primi cento giorni ci concentreremo anche sulla costituzione di un gruppo di lavoro, che abbiamo richiamato più volte in campagna elettorale, sul cecche lavori sul centro storico.